Ben ritrovati Banana Chart, ultimo giorno della nostra Banana Chart, ci occupiamo come sempre l'ultimo giorno dei tre giochi più venduti della settimana. Cominciamo subito con la posizione numero 3 dove troviamo Call of Duty Black Ops 2. Noi siamo più forti, abbiamo costruito i computer, i robot, le armate non mangiate, e nessuno ha mai avuto. Le figure mi dovete far fare, poi devo tornare a fare l'impostato, sempre le due personalità. Banana Chart, ci stiamo occupando dei tre giochi più venduti della settimana, posizione numero 2. Un altro modo di giocare a calcio, Football Manager 2013, posizione numero 1. Sono un po' triste perché è finita tutta la Banana Chart, quindi ci rivediamo la settimana prossima. Vabbè, ci consoliamo andando a scoprire la prima posizione dove troviamo GTA 5, Grand Theft Auto 5. Vi devo salutare, l'appuntamento con la Banana Chart per la settimana prossima, www.bananabenz.it e il sito di Banana Moon. Che altro dire? Niente, ciao da Luca. Ciao, ciao, ciao eh. He is not staying the night, he's a bug! You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. If you want my advice, give the shit up. Skeletons in your closet, itching to come outside. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise.